che cosa ho fatto che cosa ho fatto bestiace io non volevo io non volevo dire la mia non volevo non volevo avere un parere su una cosa non poter non posso non è che non volevo non posso non si può in questo mondo malato o figa non si può è vietato parlare esatto oggi ragazzi ho postato in maniera proprio senza pensiero senza pensiero e senza pensarci ho postato su instagram un pezzettino del clip solo su instagram e trez perché non volevo metterlo su tiktok altrimenti non ho la minima di che cazzo succeda quindi per evitare puttanate ho postato un clipino microscopico di neanche 30 secondi di io che faccio una battuta uno sketch del cazzo su un caso che è accaduto che ovviamente non richiede non richiede battute né sketch nel senso mi raccomando attenzione non sottovalutiamo la cosa ed è stato il puttanaio non so se l'avete visto ragazzi ma non voglio parlare di questo soltanto soltanto io mi chiedo chi micchia me l'ha fatto fare porco due chi micchia me l'ha fatto fare in 24 ore 70 mila visualizzazioni e tipo una cosa come 200 commenti sotto ma cosa cosa cazzo ma perché perché me ne potevo stare zitto per i cazzi miei su telegram ci siamo scompisciati e mi fa piacere bestiacce voi sab avete telegram ve lo ricordo allora ragazzi stasera è una sera finalmente è una sera direi completa stasera l'horror quello vero si amalgama perfettamente col thriller e io sta cosa l'amo perché interpreteremo i panni di questo white 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 iti non lo so come si chiama che è un investigatore privato che va in casa dei giapponesi proprio il suo lavoro è questo andare in casa dei giapponesi e risolvergli i problemi i casi che possono essere stati di omicidio cazzi e mazzi e a quanto pare il papà di questa sofia kaiamoto non so come si chiama i ragazzi sto sparando un nome a caso ha richiesto il suo aiuto perché non sa che fine ha fatto la figlia o meno non sa cosa è successo alla figlia noi l'abbiamo provato la prima mezz'ora abbiamo scoperto in mezz'ora che lo spirito di lei quindi è morta lo spirito di lei è ancora nella casa e ci vuole dire qualcosa ci vuole dire cos'è accaduto ovviamente se la prenderà con noi perché si sa si sa mai far adirare una donna morta vero il riassunto del gioco e non è l'assunto del gioco è quello che abbiamo visto in mezz'oretta poi non so che cazzo accadrà il gioco dovrebbe durare circa un'ora un'ora e mezzo non ne ho idea fatto sta che è veramente a parte che graficamente spacca le mascelle ma poi è veramente bello intenso e utilizza e grazie all'ausilio del microfono possiamo entrare in questo contesto di realtà virtuale nel senso possiamo possiamo entrare in un contesto un pochino più reale e poter parlare con questo diciamo spirito e vedere che cazzo succede cosa veramente figa ma fa male assolutamente sì quindi attenzione quindi attenzione dino salutami ne ho bisogno certo allora però prima di tutto come al solito tg dino ragazzi con notizie esclusive da tutto il mondo proveniente soprattutto in ambito ludico e ma in generale un po un po tutto in tutti i nostri diciamo la cultura popolare ecco tutto ciò che ci piace serie tv cinema cazzi e mazzi che tanto amiamo iniziamo con la prima ed incredibile notizia io non ne avevo la minima idea e do la colpa a voi che non me l'avete detto c'è una serie su ted e io non l'ho vista cristo c'è una serie su ted alla quale ign ha dato sei evidentemente troppo politicamente scorretta per i suoi gusti dove potete vedere che abbiamo un giovane non mi ricordo il nome e il piccolo ted dorsarchiotto che esce da fuori con una bottiglia di bad visor e del fumo di marijuana uscire dal suo armadietto dove probabilmente è stato bullizzato per giorni ted e goat sì sì ted è una capra esatto quindi non vedo l'ora ragazzi di vedere com'è questa prima stagione anche se ign gli ha dato sei strano è una cosa abbastanza strana peculiare considerando che hanno dato 9 a quella cagata di eco altra puttanata marvel però si sa ciò che tira piace ciò che tira è giusto che sia bello no questo è il concetto ma non abbiate paura perché c'è una notizia positiva mondo video ludico ragazzi la switch ha una data di uscita secondo dei leak hanno leakato una switch e hanno scoperto che potrebbe uscire il 2024 a settembre ma a settembre dovrebbe uscire la nuova console in tempo per farci spendere i soldi per il prossimo natale tra l'altro ragazzi qua si ride si scherza siamo all'11 di gennaio ovviamente il mio compleanno non è ancora finito perché si sa inizio il mio compleanno inizia il 25 di dicembre e finisce quando finisce l'inverno questo è così per me poi chi se ne frega per gli altri per me è così e quindi in sostanza in quei mesi di compleanno che farò uscire alla switch sono felice di questo ma oggi c'è dino no non c'è dino oggi oggi non c'è preferisce la realtà virtuale ora detto ciò ragazzi attenzione altra notizia incredibile abbiamo finalmente una meravigliosa valutazione di quello che è un prodotto che noi porteremo al day one non abbiate paura lo porteremo al day one perché so che lo state aspettando è il gioco più atteso da tutti quanti voi ossia dai figa ragazzi mi cadete così come ho paura come boh e beh è vero effettivamente in questo 2024 non si sa che cosa esce vabbè ve lo dico io dai ragazzi prince of persia eccolo qua incredibile ma vero voto 8 quindi sembrerebbe essere un gioco decente che non che non vedo l'ora di provare perché in 2d in sostanza perché si ritorna al vecchio prince of persia al prince of persia one dove appunto il pupazzetto se ne andava in pigiama in giro per i castelli e voglio provarlo ragazzi voglio provarlo voglio vedere com'è proviamo lo proviamo giusto al volo vediamo se è degno e se è degno delle nostre mani lo continuiamo se no ce ne sbattiamo il cazzo e andiamo avanti con la nostra quieta vita va bene come star film ma che star film no no basta 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 torna ormai è acqua passata è passato un anno ragazzi e sappiate che voi che usufruite di playstation 5 gioite gioite o figa perché sta per uscire il nuovo dual sense dal costo di 90 forse probabilmente costerà il doppio 180 euro non lo so con 12 ore di autonomia di batteria grazie piragna bestiaccia roto valhalla per 10 abbonamenti addirittura voi 10 sapete che ringraziare 12 ore di batteria ora io non so che cazzo avete che problemi avete voi con i vostri pad ma io da quando ho acquistato la mia playstation il mio pad ha sempre funzionato ed ha durato anche 3 4 giorni però a quanto pare nelle mani di alcuni non dura neanche 5 ore tanto che la sony ha deciso di cicciare fuori questo pad al plutonio che permette l'utilizzo della macchina fino a 12 ore di batteria incredibile ragazzi incredibile non so quando uscirà ma ce ne sbattiamo le palle una buonissima altra notizia quasi succulenta direi sto sbavando come possibile non ne ho idea non so come avrà un pannello solare non lo so si alimenta con l'amore non ne ho idea fatto sta che comunque lui è tornato è tornato dopo che ha avuto un incidente tra le nevi se non sbaglio era rimasto schiacciato sotto un gatto delle nevi una roba del genere o mentre stava facendo sci non mi ricordo cosa è successo però sto poveraccio si è incriccato tutto è finito in ospedale ma è ritornato più forte di prima ora quello che spero di questo attore è che gli facciano fare una parte un po più interessante di quel coglione di 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 occhio di falco perché sono stufo veramente è un bravissimo attore e dovrebbe dovrebbe staccarsi dalla disney lascia perdere la disney fidati fai altro fai altro però immagino che i soldi tirino hai ragione dino e certo e che cazzo ragazzi ma lui è bravo a recitare l'ho visto in altri film adesso non ti so dire quali perché non mi ricordo però l'ho visto nel c'è lui è bravo me l'ha detto lui che è bravo il soldo sì sì grazie copgamer per i cento incredibile adesso vi saluto e vi ringrazio ultima notizia poi non cago più il cazzo sempre ovviamente tutto quanto da igne ragazzi anzi le ultime due notizie vabbè facciamo la prima poi l'altro una menzione onorevole isabella mercedes o merced ho letto mercedes sapete chi è no è lei e interpreterà la parte di dina nella prossima stagione di the last of us the last of us che vuol dire l'ultimo di noi culi the last of us interpreterà la parte no vabbè ragazzi culi nel senso interpreterà la che cazzo mi è finita in bocca la verità interpreterà la parte di isabella mercedes della parte di dina la mia controparte femminile ovviamente lesbica isabella mercedes che in sostanza niente fa quello che deve fare allora per chi non ha per chi non ha la minima idea di che cosa potrebbe accadere in the last of us parte 2 muore joel questa rimane incinta e l'altra non lo so procediamo allora abbiamo anche in credito eccolo qui incredibile no ma non è lo dico ragazzi semplicemente perché non voglio non voglio far ripassare del perché buttare via il tempo attenzione con un trailer un trailer un'immagine pitch di di alo di alo season 2 che vuol dire alo alo ragione 2 guardate che meraviglia guardate che meraviglia questa è la faccia di master chief dio bono e poi c'è questo pezzettino basta fine ah no va avanti wow tolgo volume perché altrimenti il copyright ci demolisce però sembra essere un buon prodotto purtroppo la prima stagione non l'ho vista la devo recuperare assolutamente alo ovviamente mi piace in generale tutto l'universo costruito attorno ad alo e sono stra curioso di vederlo però non l'ho fatto perché non avevo tempo adesso me lo recupero probabilmente poi aspetto volentieri la stagione 2 sperando sia qualcosa di figo il problema è che adesso che so che la faccia di alo di chief è questa non no non lo so me lo aspettavo me lo aspettavo con i dread il side cut con una carnagione ecco un pochino più nostrana ok ok un po' più color oliva me lo aspettavo con questi labbroni me lo aspettavo un po' con non lo so me lo aspettavo diverso è strano vero ma quando io me lo aspettavo secondo me ci fai così ma che vuoi che tu che cazzo che ne sai l'hai mai visto come sotto l'elmo no e allora basta gali si si la serie è figa fidati ok allora la devo recuperare ragazzi la devo recuperare assolutamente e queste erano le news del tg dino di stasera dino laghi un po laghi si scrive con l'h però è per favore ora ho perso di interesse ma perché vergognatevi ma voi avete dei pregiudizi vergognatevi allora vi saluto e poi iniziamo a giocare siete pronti fa male tutto mi fa male come non è vero certo che ho rotto qualcosa certo che è vero allora fermi el pacco de artemis big viana big vana perdone pensi nei giochi però non so se toglie mai il casco o meglio se lo toglie ma non gli hanno mai inquadrato la faccia non si vede mai la faccia daniel od wolf girl yeger jeren anche yeger a sto punto poi chi altro just chiamami 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 leudo chiamami leudo veronica caffè caldo ambretta raro 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 non ce la faccio da dislessico per favore cambiate nome bimu marchese lollo the seven joe pentagon gaia sabino emi maya svavix shavix 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 come cazzo si fa come si come faccio ragazzi per favore per favore troppe consonanti nei vostri fottuti nomi chord ritornello funnel pochi altro chorma chorma perchè ch-h-r-i perchè perché il nome non era disponibile marta cop tv danni ci siamo anzi copti danni perdonami martina comi cop tv incredibile daxin eccolo lì il nostro daxin pochi altro horizon analis ho letto anais air ali art ansietta poi chi altro poi chi altro iliana figa ma un pisello ogni tanto giusto per venomx polifemo imperius eccolo lì acchi imperius è la nostra iscritta preferita smokey shaitube bebs e poi ultimo ma non ultimo chi è l'ultimo degli ultimi ragazzi ho perso una shabbat chi è l'ultimo degli ultimi chi è l'ultimo degli ultimi o figa chi è che si sveglia la mattina e il sole gli dice no il destino gli dice no la fortuna dice no la salute dice no l'amore dice niente l'amore sta zitto guarda così a sentimento dinos with e wife incredibile bestiasce bentornati è un piacere è un onore in questa meravigliosa casa del signore appunto che non è la mia perché la occupa allora bestiasce io spero che questa volta il gioco non crei problemi come l'altra volta perché l'altra volta si era impallato tutto ora detto ciò attenzione ieri abbiamo iniziato quelle che erano le reaction a ed stafford molto probabilmente stasera se non abbiamo un cazzo da fare non c'è niente di utile faremo altri dieci minuti di ed stafford io ve lo dico perché le reaction di ed stafford su valvailista d'eccezione esperto nella sopravvivenza in un'isola per 60 giorni è una delle cose più esilaranti che le vostre corne potranno mai magari magazzineare nel vostro cervello questa immagine riflessa al contrario che si proietta si riduplica e diventa qualcosa un'idea un concetto e domani dite oh sai che c'è me ne vado in giro per una cazzo di isola dei caraibi delle figi nudo come ed stafford voglio sopravvivere come lui perché ragazzi è così quando vedi questi fenomeni quando vedi questi esseri umani che ritornano alla loro essenza primordiale tu vuoi seguirli tu vuoi fare tu lo guardi ci quello quello è uno che posso chiamare re ok è esattamente così che esattamente così che capiterà quindi stasera ragazzi rimarremo ipnotizzati dalle chiappe di ed stafford che nel mentre cercheranno di 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 nutrirsi di cocchi di granchi e di qualsiasi altra roba ovviamente andando poi in dissenteria come il naturale ciclo della vita richiede va bene sì sì poetico ragazzi lo so allora bestiacci direi di partire vi ricordo dopo la giocata appunto reaction questa è la prima prima reaction del canale attenzione perché non non le facciamo mai ma adesso che sappiamo come si fanno allora bestiacci ci siamo super natural via partiamo stamattina mi sono svegliato sta andando il gioco intanto stamattina mi sono svegliato ragazzi e non riuscivo a scrivere una palpebra la palpebra destra ho iniziato a pensare di di stare più male del solito però poi detto vabbè tutto a posto perché la palpebra si era sbloccata poi non potevo più muovere la mano la mano sinistra però la palpebra si era sbloccata quindi direi che sta andando tutto alla grande allora vediamo se funzica devo fare una roba però mi sono dimenticato merda merda vediamo se fa così e poi se facciamo cosa devo togliere andrea fammi togliere andrea via andrea via sciò facciamo priorità proprietà priorità finestra specifica cattura finestra specifica ok oh eccoci eccoci via sta merda ma se faccio così meglio 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 però mi si blocca la chat se lo metto tutto schermo io sta cosa è a no sta andando attenzione parlate scrivete qualche cagata scrivete qualche cagata qualche scrive scrivete letteralmente qualche cagata oh grazie cagata perfetto sta andando è continua no no aspetta continua no allora intanto dobbiamo cercare di capire se io ho attivato il microfono porca puttana allora queste sono le frasi che dobbiamo segnarci ragazzi ce l'avete aspetta che me le segno da qualche parte no no ma io non ho un post it qua porca puttana allora aspetta con calma ce la posso fare allora dov'è 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 questo cazzo di tele applicazione note eccole qui notes buono allora in stampatello corsivo gigante maiuscolo can you help me can you help me ho scritto help senza p datemi tempo ragazzi mezz'ora ci sono is anyone here is anyone here are you friendly are you friendly scritte malissimo where are you where are your show yourself caratteristico show you soul self go away meraviglioso paese ragazzi le away sono un posto idilliaco do something ok what happened me le segno ragazzi perché almeno mentre stiamo in gioco possiamo parlare con lo spirito e ce li ho can you see me can you see me bleeding a questo l'ho aggiunto io what do you want what do you want sembrano dei titoli di qualche canzone pop del successo mondiale ora quello che non ho capito è come cazzo funziona microfono when you see these icons it means the voice recognition is disabled at this time when you see this icon it means the voice recognition is enabled ok quindi when you see this it means your voice is being captured for voice recognition quindi quando quando il microfono è rosso vuol dire che sta registrando quel cazzo che dico perciò non mi venite a dire no ma se è rosso non funziona quando è rosso funziona quando è bianco vuol dire che il microfono è attivo ed è funzionante nel gioco ma devo schiacciare il tasto però qual era il tasto poi ti dice di parlare in inglese chiaramente oppure potrebbe non funzionare o no questo potrebbe essere un problema allora ragazzi aspettate che cerco di guardate la grafica di sto gioco mamma mia allora cos'è che avevamo fatto niente allora col tasto shift io posso parlare questo preciso istante oh ehi ehi iniziamo male con questo con il tasto shift io posso vedete che c'è il simbolino del microfono parla mi ascolta la tizia quindi adesso io dico is anyone here no buono non c'è buono possiamo anche spendere la luce volendo il gioco va a 2 fps ho spento la luce pessima idea ma dove l'ho spenta ah no qua l'ho spenta ah avevamo anche le potevamo controllare le impostazioni le impostazioni potevamo controllare un attimino buono con calma siamo siamo ragazzi siamo pesante all'incirca qui in questo gioco dovevo trovare una password per capire come cazzo entrare tra le tra le robe tra le mail del protagonista indagare ku ca... oh che cazzo succede is anyone here are you friendly Where are you? Scooby-Doo Che cazzo è sta roba? Ma che cazzo di suoni sono? A parte che fuori, secondo me, c'è uno tsunami Non è descrivibile Allora, cerchiamo, vediamo intanto se le telecamere di sicurezza hanno ripreso qualcosa Ah Vive in una foresta? Eh sì, è pluviale la situazione Allora, possiamo cambiare la telecamera, se non sbaglio Con, non mi ricordo, più i tasti Press and hold the interaction button to move To move the che? Ah, posso girare la telecamera Ah, questa è nuova, non lo sapevo La night vision Mettemi la night vision Bella la night vision Allora, next Questo sono sempre io Che cosa succede? Quella è la mia torcia? Ah, buono Eccoci, guardate, incredibile Taglio arrogantello Posso muovere la telecamera? Non lo sapevo sta cagata, non l'avevo fatto prima E là? No, non c'è un cazzo di nessuno La casa, tra l'altro, è molto piccola e quindi Cioè, è un po' difficile non E me, quello che turba è sentire questi suoni quando non sta accadendo letteralmente niente Ma c'è qualcuno steso sul divano? Com'è l'audio, ragazzi? Va bene o è troppo alto? Ah, ok, mi fa ricominciare da qui Eccola Sofia La scostumata di turno, ragazzi, ci sta dicendo qualcosa In questo caso di spegnere la luce Ah, parla anche Oh, Cristo Eh, exit Le frasi si usano sulla tavola Ouija? No, non è vero No, ma c'è scritto Ma per chi l'ha detta sta cagata? Convintissimi di ste cagate I'm coming upstairs Che vuol dire vengo sopra Buoni Sofia? Tutto a posto? Tutto a posto, cara? Una ragazzina, ragazzi, un po' irrequieta Ok, ok Ok, allora, però in questo momento non si dovrebbe essere abilitata la telecamera Ah, già, è vero che c'era questo momento un po' abbastanza Articolare Eccola Eccola lì Tranquilli, ragazzi, sono un professionista Buono Questo c'era già accaduto l'altra volta Allora, in questo caso L'audio è altissimo Va tutto bene E lei è appassionata di yoga, ragazzi Infatti, come potete vedere, a Twister lei è la migliore A posto, no? Voice recognition has been unlocked And you now can attempt to communicate Attenzione, partiamo con Wario, diciamo Show yourself Orco 2 Con calma Con calma Bene, non vedo più la chat Perfetto È proprio È proprio necessario La luce Dove cazzo è la luce in questa stanza? Possibile che questi imbecilli non hanno Eccola qua Ho vinto Buono, con calma, ragazzi Con calma Con calma si fa tutto What? Aspetta What do you want? What happened? Cosa? Mi ha risposto? Era lei? Che cazzo? Che è stato? Posso aprire le porte? Oddio Che è? Che è sto suono? Ma che è sto suono? Che cos'è sto suono? Mi sa che è al piano di sotto Vado Ok, con calma, ragazzi Do something Something Lei può tutto Direi Non è umana Allora Se mi corre In pantaloncini Sulle scale Io credo di Poter svenire Non per i pantaloncini Ragazzi Se è chiaro Non sono pronto Hai la cassa accanto? Non l'ho vista Allora Con calma Vediamo se Abbiamo qualche altro indizio Sulle telecamere Di medesimazione 100% Anch'io quando mi siedo Così mi siedo Con la chiappa destra Poi la sinistra E mi trovo a metà Mi trovo fuori dalla sedia Ma che qua non c'è un cazzo Buono Non abbiamo trovato altri indizi Prima abbiamo dovuto investigare E cercare un po' Secondo me Una certa comparirà in bagno Quanto ci scommettete? Posso chiederlo Are you in the chest room? Ah cazzo Posso parlare con lei Quando sono a pc Show yourself Show yourself Oh cristo Che succede? Che cazzo succede? Oh Hey Hey You find me a mail Ok Allora Show yourself L'ha percepito Non va bene per un cazzo Ma io sento piangere Ma lo sentite piangere? O sono pazzo io? C'è qualcuno che sta piangendo Piano di sopra Andiamo Ma sì Ma che ce frega Siamo spavaldi noi Merda 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 Che spavento La lampada Ok 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 Porco due Macca bastarda Stavo guardando il telefono Per vedere che cazzo Tenersi Stai calma Ho sputato Sono morto? Che ho fatto? Ma ho perso? Ok Tranquilli Io sono ormai esperto Di ciò Quindi cercherò Di non stimolare La sua persona Show yourself No no Scherzavo No scherzavo Ha bussato Allora Cosa voleva dire Quando bussava? Quello era no? Perché c'erano Due tipi di bussi diversi Uno era sì L'altro era no Madonna Madonna santa Pessima idea Pessima idea Can you help me? Sembra che non mi stia cacando Ecco sto suono Che cazzo è? Allora mi ha detto di guardare le mail Ma non abbiamo la password Per le mail ragazzi Per quello è bucato È la televisione Ah È dietro di me Non ti girare Non farlo Che cazzo Oh 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 Show yourself Ma Immagino voglia che la seguiamo Piedini Piedini nella valle incantata Ah Niente examskjr eh Però eh Dove sta andando Ok Lei va Seguiamola Are you friendly? Niente jumpscare Ti tiro una testata Ti giuro Poi dopo lo spiego io A tuo padre Tranquilla Che fa? Ok E ferma qui? Oh ok 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 Ehi No 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 Ok 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 È una pessima idea È una pessima idea È un'idea del cazzo Perché ho dovuto spegnere la luce Ok Quindi adesso devo vedere con la telecamera che succede qui giusto? Immagino di sì Immagino che Lei voglia le luci spente perché io possa trovare nuovi indizi Ok Ora devo sbispigliare perché se mi sente sono fottuto Are you friendly? Mi sa che non devo parlare Oh cazzo Ma che cazzo succede? Allora devo stare zitto quando viene fuori quella roba One ma? Che cazzo vuol dire one ma? Oh ma? Uno ma? Uno ma? Che cazzo significa ragazzi? Potrebbe essere La password? Ma che cazzo succede? È al piano di sopra Il pianto viene dal piano di sopra Mi dai quello della camera da letto per favore? Che cazzo è quello della camera da letto? Non piange più è certo È per forza Sto registrando tra l'altro eh Vedete che c'è tutto il rack Quindi significa che probabilmente tutto ciò che accade lo becchiamo in video è fatta E diventi arricchi Ti sarà scesa la pressione possibile? Allora uno ma? Allora ragazzi perdonatemi ma io adesso in questo preciso istante devo vedere che cazzo state dicendo Piange in bagno? Piange in bagno? Estitica? Mi sembra un po' esagerato È vero l'orario? Che succede? Luna di mattina Ah luna di mattina? Possibile Eh io che ci faccio questa informazione dell'una di mattina Perdonatemi Allora riaccendiamo la luce Merda 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 Però mi ricordavo che a una certa suonava il telefono La tavola Ouiga Possiamo usarla? La tavola Ouiga? No Non possiamo più usare un cazzo A una certa suonava il telefono se non sbaglio E lei E il padre ci diceva la password per le mail Uno mattina Un omaggio Magari Ci sta dicendo qualcosa Tipo Il periodo della settimana in cui A inizio mese quindi Io L'importante è saperlo Qua cosa cazzo c'è? Il resto del Giappone? Ma poi il Giappone non è mai così Comunque Are you here? No non mi ha preso la voce Are you here? È incapace di Di capirmi Buono meglio Brumentissimo Do something Don't do it again please don't Are you here? What is this? Are you friendly? Are you insane? Are you a bastardo? No non volevo Non ti girare Oh Cristo santo È bagnata No 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 La luce La luce Chiudete gli occhi No guardatela negli occhi A lei non piace Sta per farci un jumpscare di quelli ok Sarate le macelle Ah ok Sofia Sofia Are you friendly? Ok aspetta Fermi Fermi Ha fatto due Due talk Ok ha detto di sì Questo vuol dire che sì Questo vuol dire no È pacifica Che se lo dice lei così Certo il fatto che si approccia in questo modo Insomma Tutta sanguinolenta Contorta al contrario Che sembra una mamma ragno Effettivamente No però Devo dire che ci sta Bellissimo Mi piace un botto sto gioco ragazzi Allora scendiamo va Erano tre Dino No erano due Toc toc ha fatto Non ha fatto toc 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 Proviamo a vedere cosa c'è di qua Can you see me? No non mi vede In questo momento non mi vede Accendiamo anche questa luce Porca puttana Ripreso Ma la pistola la posso prendere? No Eh sono proprio un cretino Allora Go away non glielo dico Can you help me? Is anyone here? Can you help me? Ancora sto cazzo di suono Quando dico che è new help me mi dà sto cazzo di suono E viene da qui ma non Ma vi giuro che non capisco da dove arriva sto suono Che cazzo arriva sto suono ragazzi Vai alla tv Radio Ma la tv dove? Il piano di sotto Andiamo al piano di sotto Do you like television? Però la televisione qua è spenta ragazzi Ma il padre Io sta cazzo di mail Uno ma Provo a scrivere uno ma Come password Vediamo se qua posso fare qualcosa Are you here? Are you here? Figa No 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 What happened? Il sangue dà per tutto Ok ho capito Grazie Grazie Bastava una risposta Bastava un messaggino Non c'era bisogno Va bene così Va bene così Ok 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 A posto A posto A posto Proviamo a vedere se uno ma Potrebbe essere una risposta all'email Che cazzo ne so Non ho idea ormai Non so se è molto senso Che penso la password Uno ma Ma questo è login Che pilla che sto facendo Uno ma E login da che? Ma comunque no Aspetta dovrebbe No 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 Non ho abbastanza dati ragazzi C'è una radio vicino al letto? No non c'è una radio vicino al letto Ragazzi Aspetta che Ripeto Mi sta dando un problema con la chat Quindi non riesco a leggervi Uno smash Sma Attenzione Uno M è la prima lettera della password Ah è la prima lettera della password M Sarà merda allora Sofia username Beh ragazzi a sto punto Prendiamo uno due tre Chiedi aiuto con la password E come faccio a chiedere aiuto con la password ragazzi? Ho delle frasi preimpostate Che posso chiedergli Posso chiedergli Can you help me? Is anyone here? Are you friendly? What are you? Show yourself Do something Can you see me? What do you want? Possiamo provare a chiedergli Non gliel'abbiamo chiesto Prima Vediamo un po' Resume What do you want? Punish me? Punish io? Ma perché? Che t'ho fatto? Ok Vuole punire Immagino il suo killer Il suo killer Siamo noi Qua non posso aprire Ste cazzo di finestra Devo trovare Quelle email di merda Cristo Zitti 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 Oddio no Che schifo Ma il computer Salvati No Non ce la voglio una figlia È tutto sbagliato Ma queste si fa le passeggiate in casa così Ma io svengo No Non ce la faccio Ma non ce la faccio Che bella figlioletta che hai È visto? È cresciuta bene Se non urli ti aiuta Ma se non Allora il fatto è che O esterno L'emozione O gli vado ad ariete di testa E poi veramente sono Sono io il colpevole Cambia gioco il cazzo I propri limiti Vanno superati Allora ragazzi Ovviamente ciò che abbiamo appena visto È una delle cose più inquietanti del mondo La donna Per me attivare il V-Sync Che non era attivo Eh Resume Allora devo fare una roba Vediamo un po' se Eccoci qua Non era amichevole No A quanto pare no Allora Doviamo trovare un'altra cosa da chiedergli ragazzuoli Ah finalmente mi è partita la chat Non parlare quando c'è l'icona Lo so No quello l'ho capito Non parlare quando c'è lei Buono Allora fatemi vedere intanto le domande What do you want Lo sappiamo Can you see me What happened Do something Go away Go away Potrei dire go away Oddio Però Perché Tiene se c'è casa sua Dobbiamo trovare Ste cazzo Sta fottuta password Da qualche parte ci sarà Is anyone here? Non mi perde il comando Is anyone here? Come cazzo si dice? Is anyone here? Is anyone here? Can you see me? Cristo ha detto di sì Ha bussato due volte Are you here? Where are you? È al piano di sotto È al piano di sotto La risposta è giù ragazzi È al piano di sotto Dino canto una canzone Magari diventate amici Oh cazzo Oh cazzo Oh 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 dio Oh dio Oh dio Era qua? I nostri spiriti si sono Impelagati in un l'altro? No eh Che cazzo è stato Madonna Ma sai quanti soldi Se adesso prendi il telefono Fai su un video Lo metti su tiktok Questo white diventa famoso No ma io sento qualcuno Che sta basmadigliando Allora vediamo se c'è qualcosa da fare qui Ci serve una password ragazzi Come sono le 16.59? Com'è possibile? È impossibile? Allora What do you want? Gli abbiamo chiesto Go away Do something Do something Revenge Buono Bene Dai Allora L'altra volta si è mostrata qua Ma l'audio è andato a puttane completamente Mi si è abbassato tutto il volume Ok Molto meglio Ma lei può correre? Non lo so Non ne ho idea Telecamere Sì Telecamere Ci servono risposte Bene Si è andato Si è andato via No Sofia Sofia per l'amor del cielo No non va bene Non è questo il modo migliore Per cercare di schierire le idee Devo andare a fermarla Che sta facendo? Ok forse abbiamo Forse abbiamo un altro indizio E chi lo sente poi Il padre? Arcamise Ma tu dimmi Se devo fare da babysitter A sta qua Ehm Ssss Ehi 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 Che cazzo è? Oddio Pensavo ci fosse una faccia alla finestra Sofia? Sofia Merda 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 Che lavoro di merda E spegniamo anche sta cazzo di luce È dietro di me È dietro di me Io lo so Ed ecco perché andrò a Gambero Tecnica superiore Visto? Non accade nulla Se vai in retromarcia ragazzi Come un muletto Allora adesso non ti manifestare Per l'amor del cielo Andiamo a vedere che cazzo ci dice la telecamera Purtroppo non posso correre Più di così spavento Più di così Sieni accesa la luce per favore Allora 2RK Eh? Quindi è 1AM2RK? Ma è A M o M A? No Mark forse è il username 1 2 e la password Possibile? Dovremmo accendere le luci Non c'ho voglia Noo Mi ha crashato il gioco Noo Ma vaffanculo Noo Ma che palle Ma proprio adesso Ma che cazzo Aspetta che lo faccio riprendere Ma perché è crashato? Ah purtroppo ragazzi Ho visto anche su Steam Effettivamente che non è Cioè le valutazioni sono un po' nella media Perché non è che sia Ottimizzato al massimo Eh però Eh però Da dove mi fai ricominciare? Eh no Figa da qui Bene Vi va a ricominciare tutto da capo Immagino Perché esatto Non sta funzionando l'audio Eh ragazzi Mi dispiace Eh si Graficamente è pompatissimo Però vabbè Questi non ottimizzano un cazzo Eh c'è da dire Allora Ma devo fare tutto da capo Dove vedere dove cazzo sta lei Eccola qui Ehm Boh Si fa Si fa tranquilli Ci penso io Scrivi direttamente A chi? Mira Sofia Speedrun Va bene Aspetta che glielo dico Speedrun Speedrun Ci becchiamo di nuovo gli spaventi No ma ogni volta sono diversi Quindi in realtà Ma adesso sappiamo come fare Sofia io non ti temo Al cinema Vedi sul balcone della cucina Sembrava di aver visto un tesserino Magari c'era password Balcone della cucina Va bene Dopo guardo Grazie Charlie Questo è ciò che accade Quando gli dici No Però sembra che si diverta Eccoci qua Buono E' una circense Voice recognition unlocked Are you here? E questa qua E questa domanda Non la riesce proprio a concepire Quindi perfetto Ehm Can you help me? Domanda direi un po' sbagliata Sai che la cosa sensata ragazzi È tenere tutte le luci spente Eccoci Televisione Allora Per lo più ci comunica con la televisione Dove guardava gli amati cartoni Come K2 Ragio Yacht Where are you? Ok What do you want? Event Ci ho preso la mano Però Devo dire una cosa Per lo meno L'educazione Di rispondere c'è Perché si sa Chiedere È un diritto Rispondere cortesiera Così non lo so Quindi abbiamo You found email Perfetto Ah quindi questo era il primo Cristo Ma mi devi rifare pure Allora Ma se io già le scrivo va bene Uno è Mark Ma Mark è scritto così? Ora Mark CK No Mark così Uno ma RK E l'altro era 1-2 Credo Per adesso Ma scusami 1-2-3-4 5 No I numeri ragazzi Saranno Sarà la password Se la riapro Vediamo se Ok me lo tiene segnato Perfetto Ottimo La trovi dopo la password Possibile Do something No Non vuole fare niente Ti metto in punizione I punish you Cos'è successo Un atto crudele Vabbè Adesso Si tratta anche Era educazione Bene Sta impazzendo tutto Quello piange Lei non si muove Non si mostra E andiamo al piano di sopra Che cazzo Su E' in bagno E' qua Where are you? Oh Cristo Dio santo Sta succedendo Tutto troppo in fretta Ok la voce viene dal bagno Di quel tizio Come cazzo fa Il piede a stricciarsi Così Ah Sui gradini E' proprio paranormale Questa ragazza Daranno un pass Anche ai paranormali? Un pass per deambulare Che ne so Come è che passano Attraverso le pareti Quindi teoricamente Eccoci qua D'ora in poi Non la chiameremo più Sofia Ma Fobia Vediamo se si muove Entra una certa Devi andare via No Perché adesso abbiamo la seconda Pass Porca di quella puttana Con calma eh Siamo zitti Allora quando siamo al pc Sembra una sorta di safe zone Qua sembra Non doverci accadere nulla Sto aspettando il momento in cui Mentre mi sto per sedere Lei chiude il laptop E una faccia demoniaca Compara dalla finestra Uno ma Perfetto Vediamo se è da qualche altra parte Ok siamo praticamente ritornati qui Qua non succede mai nulla Qui c'è Ragazzi E' nel cazzo di Camino E' nel fottuto Camino E' nel Camino Che cazzo O sono io che c'ho le travegole E' nel Camino o sbaglio E' una faccia quella Questa non è una faccia E' questo un corpo Chiedi se è friendly Are you friendly? Ha risposto di si Però inizia a non fidarmi più eh Do something Domeno Che sta facendo Che sta facendo E' qui? E' qui, innanzo? Dov'è? Che pessima, pessima idea No, 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 no No, 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 quando corrono, no, quando corrono, no Ah, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene Minchia, minchia ragazzi, devo essere sincero, è uno dei giochi più ansiogeni che abbiamo mai provato Quindi io non so cosa potrebbe accadere Vabbè, questo non c'entra niente Dov'è? Non sento più nulla, sono morto? Allora Abbiamo quindi uno ma Ma Mark ce l'abbiamo, no? No, Mark non ce l'ha ancora detto, ho sbaglio Ma non sento più l'audio perché mi sono... Che è successo? C'è più l'audio nel gioco, che cazzo è successo? Voi lo sentite? È sparito l'audio, buono Ho scassato il gioco? Non sta andando più l'audio, perfetto Aspetta che provo a vedere tra... Voice recognition, control, aspetta No, non va più l'audio ragazzi Bene, bene E io qua non posso più andare avanti con questo gioco Se ogni due secondi si bugga così però Allora, proviamo a vedere se lo posso sistemare in qualche modo Vabbè, voi mi vedrete cliccare roba a caso Ma in realtà sono su un'altra finestra Madonna santa, però è rotto davvero Background, flashlight, crouch Ah, mi posso abbassare? Ma da quando? Zoom, interact, voice recognition, flashlight Vabbè, tra i telasti sono sempre quelli Brightness, lasciamola così Sentiti i viti E ragazzi, io non so cosa fare a sto punto Perché... Provo, aspetta Provo a sbaggarlo parlando al microfono Where are you? Ma chi cazzo sono? L'ho sbaggato Disappointment Devo chiedere un appuntamento? No, niente L'audio c'è soltanto per le cose... Ma che cazzo... Ma non sento più Ma mi sa che forse è una... Feature del gioco, possibile? No, non sento più Sento soltanto gli audio di alcune cose Tipo ad esempio la televisione Il resto dell'audio non lo sento più Non è che magari ci ha stannato in qualche modo Noi non capiamo più un cazzo In questo momento siamo sordi Tipo per qualche secondo Finché non la rivediamo? Sto velocissimo Sono velocissimo o sbaglio? Mi crowncio Mi crowncio per terra Anche se non so che cazzo serve a crownciarsi Show yourself Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Dov'è? Non sento nulla Non sento nulla È ancora più inquietante il gioco così Credo sia fatto apposta Non mi piace Non mi piace Allora, te ricam... I can see you No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ma non sento un cazzo Non sento Gioco baccato di merda Dove cazzo sta? Altra volta è venuta dalla finestra Spavento porca puttana Noi Non ci provate Altra volta è venuta dalla finestra Ho paura Ho paura di andare per il corridoio Oh Cristo santo Ma questa si muove per la casa Io cosa devo fare? No, no, Sofia no Fatti i cazzi tuoi Sofia no Sofia no Sofia no Dietro il separero mi vede Dietro il separero mi vede Sofia mi sto cambiando Sofia no Un po' di intimità Ah cazzo Sempre la colla Questa sta sempre addosso Per favore Per favore Certo che a Likia C'è il 70 euro Per questo separero di merda Si vede attraverso Tu dimmi E' andata o no? Che cazzo è? Oddio ho sentito cantare Ok Non c'è l'audio Quindi stiamo giocando La devo seguire? Siete pazzi in culo? Io la seguo A vostro rischio Pericolo No 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 Sofia Go away Go away E adesso è tornato l'audio Era tutta una strategia Fin dall'inizio Si è rimasti inginocchiati Nel mentre Allora Il fatto che lei Se ne vada in giro Per casa Non è buono Perché non La sopporto Ovviamente in amicizia Se riuscissi Ad accendere la luce No qua non potevo Accendere la luce Vero Abbiamo soltanto dunque Due indizi in croce Mark e compagnia bella Uno Mark Ci serve la password Ragazzi Quindi dobbiamo fargli Le domande giuste Ok Non dobbiamo Se abbiamo capito Che non dobbiamo seguirla Però il fatto che Allora Morire Non sembra Morire o farsi catturare Non sembra implicare nulla Nel gioco Quindi Probabilmente dobbiamo Anche farci Inseguire Non lo so Cosa possiamo chiedere Can you help me? Guarda la telecamera Va bene Grazie Gentilissima Anche se ti vede Sta zitto Non ti fa niente Non urlare È fatto tutto apposta Grazie per spoilerarmi Grazie per lasciarmi Godere il gioco In Santa Passo Buono Ci siamo Siamo tornati qua Marca miseria Sembra una ragazza Civilizzata Comunque Da un passato Un po' Ecco Irrequieto Però bene o male Sembra uno a posto Con la testa Sono adolescenti Crescono Nascono Muoiono Quest'ordine E vaffanculo Adesso Vediamo un po' Poste cazzo Di telecamere Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Ok 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 non c'è fatto nulla Non c'è fatto nulla A posto A posto A posto A posto Stupefacente direi Abbiamo avuto un contatto Porca puttana Sta merda di lampada Ogni volta Abbiamo avuto un contatto Ragazzi Ok 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 Eh Can you see me? No Non ci vede Ma Vabbè A sto punto Una visita dall'oculista Gliela facciamo anche fare Anche Anche perché no Dal cardiologo Magari Oh Oh Tutto a posto Ma chi cazzo è Questa qua non è lei Non può essere lei Che c'ha le corde vocali Cioè Nel senso Da teenager Gli sono sesi i coglioni Mi ha cambiato L'impostazione della voce Ma non è femmina lei Vabbè I misteri del Giappone Sembra uno che si strozza Perché quando ti strozza Si fai Buono 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 Is anyone here? Is anyone here? Cerchiamo di capire Quale cazzo siano le voci Is anyone here? Is anyone here? E io lo dico anche giù Si dice così No? Sono cretino io Digli di andare via Ma perché? Do something Go away What happened? Can you see me? What do you want? Show yourself Is anyone here? Non funziona ragazzi Here 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 Come cazzo dice? Forse non funziona Ma vabbè sembra non funzionare Is anyone here? Ma è andato Bene Ha risposto di sì Do something No No Non vuole fare niente Non vuole fare niente What do you want? Vuole un aiuto? Vuole un aiuto? Can you help me? Non puoi rispondermi adesso Perché sta rispondendo a me Giustamente Che male educato Non si parla sopra i fantasmi ragazzi Capito Can you help me? 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 Sembro quella cretina Grazie per le rose Vuoi rispondere o no? Dio Bono Per favore Cazzo un NPC Can you help me? Oh Cioè ma non funziona Can you help me? Prima anyone here Vabbè Ma fate voi Go away Oh Bonnie eh Bonnie Non va più un cazzo ragazzi Non fu La luce La luce S O È qui È qui La vedo 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 la sua cazzo di ombra Sulla luce ragazzi L'avete visto? Ditemi che l'avete vista Che figata è sto gioco Do something Oh la madonna Che è successo Porca puttana Do 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 meno please Porca troia Mi è venuto un infarto Ok nel cammino non c'è E fin qua Can you help me? Can you help me? Ma che cazzo Non ho detto Non ho detto Ma non ho detto Quello Vabbè Serve un corso Di C1 Di inglese Ragazzi Per questo gioco Però ci sto arrivando Pian piano Sto specializzando Allora Proviamo ad andare Piano di sopra Così giusto Per un brivido Oh mio dio Dov'era? Era dietro di me? Ma siamo Deficenti Or l'ho rincoglionita Completamente Sofia si rilassi Le sue medicine Le pastiglie Per l'amor del cielo Sofia no Non t'avvicinare Non t'avvicinare Sai Ok 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 Che fa? No 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 Meno male Meno male Che è alto 1 metro e 50 Meno male Che mi ha urlato Solo ai capezzoli Sennò veramente Sarebbe stato Molto Più spaventoso Ok E che devo fare Mo? What do you want? E non funziona più niente Niente Si si sfoga stasera Sofia Per l'amor del cielo Non ce la faccio E sto giocando pure con le luci accese Capisci? Spegni le luci Spegni le luci Ti immedesimi di più Vaffanculo Are you here? What do you want? No io alla prossima Veramente faccio qualcosa Di cui potrei pentirmi Io lo dico Ho bisogno di una pausa Ragazzi Perdonatemi un secondo Allora Manco un quarto d'ora Le domande ci le abbiamo Can you help me? Direi di no A questo punto Non mi frega un cazzo Della mia salute Is anyone here? Non risponde Are you friendly? Mi sembra una presa per il cuore Una certa chiederlo Show yourself Diciamo che se abbiamo stata Quattro volte Se abbiamo stata abbastanza La ragazza Go away Anche un sito apposta Do something What happened? Can you see me? Can you see me? E poi abbiamo What do you want? Allora Vediamo un po' Se ste cazzo di telecamere Ci fanno vedere qualcosa Allora 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 Oh Questo è nuovo Ok Questo è nuovo Ma non sta succedendo nulla Però Con un bug dopo l'altro Ci stiamo riuscendo Pian piano Ah Buono Buono Se per caso Si vuole fare una passeggiata E ciccia fuori il microfono Io mi metto al computer Ve lo dico Che tu sia la cosa migliore da fare No Non dico più Show yourself Perché poi Col cazzo 3 2 0 0 9 Ok 3 2 0 0 9 3 2 0 0 9 Allora abbiamo Mark E l'altro era 1 2 3 Quale cazzo era? 3 0 0 9 No 1 2 3 0 0 9 2009 No ma ci manca un numero ragazzi No no C'erano altri numeri prima Vi ricordate? E' solo Mark 2009? Come Mark 2009? Non va Ragazzi Continuate a scrivere Mark 2009 Non va Continuate a scrivere Mark 2009 Mark 2009 Non sta andando Forse era 1 2 No 12900 Non va Hai login Mark 2009? Ma siamo fuori di te Minchia Gesù E l'uno che cazzo era? Scusatemi E' l'uno che abbiamo visto prima? Vi ricordate? C'era 1 Aspetta no Perché forse qualcuno di voi Aspetta Fermi Era 1 Non è che forse 1 Ma 2RK Cioè Tricas potrebbe avere ragione 1,2,3 Saranno i numeri degli indizi De che indizi? E' l'ordine? Sono le parti in ordine Per non scriverle sbagliate Ah Un po' un'idea del cazzo E' andato via l'audio? Ah no Ok Mark Ragazzi Non so che cazzo scrivere 1 Mark 23.900 23.900 Ma che cazzo scrive? Vabbè 1 Mark così? Nope Dino che shampoo Usi Salute Salute Saliva e inchiostro Non mi scuglio Prova minuscolo Ah già è vero Sto facendo maiuscolo Perché si è attivato il maiuscolo Allora abbiamo Mark minuscolo Mark 2009 Ma Aspetta Ma Allora Fermi Il login è Mark E' fin qua O è Mark 2009 Proviamo sto cazzo di 1 Mark Scusate 1 Ma 2 RK Questo era quello che avevamo letto l'altra volta Però questo potrebbe essere il login Giusto? Forse non è completa La password la devi ancora cercare Ah quindi Allora qual è il login? Ragazzi Fino ad adesso Che cazzo abbiamo trovato? Fammi vedere Intanto mi sembra che sia rimasto tutto abbastanza spento Quindi possiamo rivedere gli indizi No qua è rimasto You, 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 you find email M1MA M1MA E poi l'altro indizio Ah questo qua è il 3 Vedi? Quindi questo qua è l'ultimo indizio Diciamo del Da mettere E il primo indizio quale cazzo era? Ma non ce l'abbiamo al primo indizio 1MA Il secondo dove cazzo era? Il secondo è 2RH Esatto Esatto Allora Siamo così 1MA2RK 2MA2RK Non ho letto Non ho letto No, 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 no Bene Questa ci parla Questa ci parla Can you help me? Sento che ho sentito Now find password Orco can Allora vedi Bene 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 Tagliere C'è rimane così piccole And now Now find password Ok Ma se accendo la luce Lo vedo lo stesso Che affare Sì Mi piacerà come abbiamo Ridecorato casa Al proprietario Non sto capendo Che cazzo stia combinando Con le luci Perdonatemi Un puntone Un puntino Per capire Cosa sto cliccando Potevano anche mettermelo Maledizione La password È sto cazzo Vai su ora No nel bagno Non c'è niente ragazzi Abbiamo già visto Allora quindi Come cazzo Cosa dobbiamo fare Quindi è Mark 2009 E il resto La password No Me la deve dare E fin qua Direi che ci siamo Are you friendly? Ha detto di sì Se dice di sì Ci fidiamo Non si accende più la luce E invece Can you help me? Non va Look behind you Ma va Affan Caput Aia E Oh Piano 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 Non sa Dimostrare l'affetto Oh Eh Questo sono io Col septum Nasale rotto Ma che cazzo è? Ma datti una calmata Infoiata del cazzo Eh ma è difficile però eh Qua serve un collare a strozzo Qui serve educazione Eh questo frigna Vedi anziché se piangere Tirassi fuori la cingh Ogni tanto tua figlia Non cresceva così Si contestualizza L'atto ludico Etwitch Night vision Night vision è Un nome per un romanzo Criminale Ah In bagno è successo qualcosa Andiamo a vedere Tanto ormai Il nome è Marco 2009 Ok Quello l'abbiamo capito What do you want? Oh Se n'è andata Se n'è andata Se n'è andata C'è passata a fianco Sistemiamo qua Oh esci Ah devo uscire da qui Andiamo a vedere in bagno Che cazzo è successo Io sta lampada ragazzi Vi giuro Mi avrà fatto spaventare Più la lampada Che Sofia Che cazzo Che cazzo Che Gesù santa Che devo fare Cosa vuoi Che ti serve Il vetro è rotto Ma non è rotto Ok Reflecting revelation Ok c'è qualcosa C'è qualcosa nello specchio Ma non capisco cosa sia dietro di me Ok proviamo a vedere se con la telecamera No ma la telecamera non inquadra il bagno Reflecting revelation Quindi serve una Oh good way No 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 Lo scopito 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 Dove cazzo sta Dove cazzo sta Sento suono anche in casa mia Non è normale Allora Allora I vasi della nonna No eh Che c'è dentro anche la nonna Intanto lo so che poi Chiederanno a me i danni per la casa Te lo dico io Devo dire che io comunque Ho una piccola correzione lombare Eccola qui Guardate la principessa del ballo Va che bella Eccoci Pensai che la stiamo spiando Buono 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 Ecco adesso il problema è quando va di là Eccoci Eccoci Caracca Bastarda Santo Dio No ma non Ma parlo ragazzi Perché so Vedo 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 l'indicatore Mi dice se Se sto superando i decibel necessari Per farmi sgamare In inglese Sgameir Però Sta roba del riflesso Non l'ho mica capita Perdonatemi Come Ancora 5 5T 5T Sta usando la mia strategia del granchio Va a gambero anche lei Come cazzo faccio adesso Siamo fottuti Sono le 23 Eh cazzo è vero È difficile ragazzi Questo gioco Allora bestiacce Eh niente La chiudiamo qui La continuiamo la prossima volta Adesso facciamo la reaction Incredibile Eh Tanto dobbiamo scoprire la password Ci ha salvati per la password Quindi buono Direi che ci siamo Siamo riusciti a fare un pezzettino alla volta Domani Dovremmo continuarlo Se non lo continuiamo C'è un altro gioco horror Che si basa sul riconoscimento vocale Che si chiama Non mi ricordo De Sti cazzi Non mi ricordo più Eh Facciamo quindi una roba Vado un attimo in bagno Pausa cesso Perché Ne ho bisogno E adesso ci facciamo la reaction Di Ed Stafford Va bene Mancano 4 minuti Lo so lo so Adesso ci fai la reazione Con calma ragazzi La seconda è la V Grazie mille Giovanni Grazie mille Giovanni No ma allora Attenzione Quello che voglio sapere io Era Quale cazzo era l'indizio nel water Nel cesso Nel sottoscala c'è il water Avete presente dove Dove ne tengo chiuso Nel Harry Potter Harry Potter c'è lì Tra l'altro si lamenta alla fine Però c'è anche il cesso in camera Quindi io non romperai tanto i coglioni Lì c'era la C'era il vetro rotto Sembrava essere uno zero E anche a me sembrava uno zero Uno S Dove cazzo hai letto uno S Però vabbè Se me lo dici Sono sicuro Che sarà Così Allora Chiudiamo qua Lo continuiamo alla prossima volta Ehm Non ci facciamo la reaction E vado un attimo in bagno e arrivo Dino il gioco si chiama The Classroom Ecco esatto Grande The Classroom Domani è massimo Facciamo The Classroom Continuiamo questo Però comunque generalmente Mi sa che finire Continueremo questo Una volta finito Facciamo The Classroom Tanto credo che una volta Scoperta la password Il gioco Si concluda Perché non Comunque eccezionale È uno dei migliori horror Che ho giocato in questo periodo È il più bell'horror Del 2024 Eh già